Siamo nel 2012, ho 18 anni, perché dico questo? Perché nella mia porta di casa mia hanno bussato svariati tipi di persone hanno bussato svariati tipi di persone regolarmente pagate Dovremmo prendere la spazzatura, non accanto, cosa dire altro? Lamentere di ogni genere, ma altri tipi di persone, fortunatamente poche Sono incredibile, sono incredibile, non riesco a capire, non riesco a capire questo Una persona di sua spontanea volontà ha bussato alla mia porta E ha detto questo Giuseppe, posso gentilmente regalarti 10.000 euro? Cioè ma, vi rendete conto? C'è stato un volontario, che di sua spontanea volontà, che mi ha regalato dei soldi In che mondo viviamo? Come il postino che mi porta la macchina a giustarla dal meccanico Che mi porta 10.000 euro, quello viene E le persone che mi porta la spazzatura Che mi portano il segno di pace Quelli non vengono? Perché non vengono? Ma non nel segno delle 10.000 euro Sono incredibile, sono caternato, sono come cazzo di fare? Come il postino che mi porta le vostre proprietà E mi regala dei figli scostumati, se maleducati Che non sono interessati alle vostre proprietà Perché non mi ridonate a me? A Simone Giuseppe Regalatemela a me Se i vostri figli sono disinteressati Intestatemela a me Divento io l'amministratore delegato Cioè io sono spontaneo, sono come dire Sono... I'm very hungry Mi manca un sì scritto sul vostro testamento No Io più di questo, più di dare la mia disponibilità La mia volontà nell'amministrare le vostre cose Non so che dire Non so che dire Mi sono rotto il cazzo Mi sono rotto il cazzo E va a fortuna, mi sono rotto il cazzo Mi avete fregato il cazzo Cioè mi avete rotto il cazzo Mi avete rotto il cazzo Mi avete rotto il cazzo perché Non me l'avete mai data in 30 anni di vita Bene donne, bene donne Pure auguri Ma non pure di forza Siete delle merde Cioè io ho dovuto pagare Io ho dovuto pagare Per avere la figa col bene a bocci Coglioni 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 Cioè Io ho le galline Vedete le galline Vabbè che non si vedono No Vabbè che non si vedono Ma potete sentire i rumori No Io le amministro io le galline E mi danno le uova E le mangio o le vendo No I don't want that Se voi avete figli interessati Perché non me li intestate a me Se vostri figli sono interessati O me ne freghisti O sono gay E pensano soltanto A baciarsi con i frogi Give me the fish O sono maleducati E pensano soltanto A consumare i vostri soldi Datemigli a me Che so io Come risparmiarli Intestatemi a me No Intestatemi a me Intestatemi a me Intestatemi a me No I don't want that Se voi voi siete dei figli Che a voi Interessano 10.000 Galline Vedete le galline Vabbè che non si vedono Fate vedere questo video Alle vostre mamme Alle vostre zia Alle vostre Ai vostri papà E dite Guardate papà Guarda papà C'è Simone Giuseppe Che è interessato Alle vostre mamme Alle vostre galline Vabbè che non si vedono Se avete un papà E non sapete a chi lasciarlo Un domani Cazzo Buo basta Io adesso vado a mangiare E E spero che il video Sia stato interessante